Ogni apparizione di Anna Marchesini in televisione rallegra e commuove il pubblico nello stesso tempo ed è impossibile del resto non ammirare la sua eleganza, l'autoironia e il grande spirito che dimostrano che la malattia sicuramente non riesce a rallentarla. Dopo un anno la comica torna a Che Tempo che fa, ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 2 novembre e non a caso Anna puntualizza subito. Nel caso vorrei essere cremata, eh? Ironia ma anche riflessioni da parte della Marchesini che parla con assoluta semplicità di vita e di morte. Non ho ancora capito perché si sta in vita, afferma infatti, ma ci sto. La Marchesini salutata da Fazio con un omaggio floreale tornerà a teatro dal 4 al 16 novembre al piccolo teatro Paolo Grassi di Milano mettendo in scena uno dei racconti del suo ultimo libro Moscerine, Cirino e Marilda, non si può fare. Grazie a tutti.